Si scaldano i motori per il Rally del Rubinetto in calendario a fine mese, precisamente il 29 e 30 settembre. Sarà un'edizione speciale visto che è la numero 25. Iscrizioni da domani sul sito www.rallydellarubinetto.com, ma già diversi big della volante hanno assicurato la loro presenza. In particolare si ripeterà il duello eterno tra Caffoni e Margaroli, tra i favoriti sulle strade di Cusio e Valsesia, dove sono in programma le 10 prove speciali. Come detto, il rally sarà su due giornate con San Maurizio d'Opaglio, cuore pulsante della manifestazione e base logistica. Al centro sportivo più sport ci saranno direzione sportiva e tecnica, il centro classifiche e tutta la macchina organizzativa. La partenza è fissata nel piazzale dello stabilimento Fratelli Pettinaroli, l'arrivo domenica in piazza del municipio a San Maurizio. Sabato si comincia con le due speciali di Coeromonte, dedicata a Gianni Piola e la prova di città di Borgosesia, compresa tra Rozzo e Caneto. Domenica la prima speciale in programma a Valduggia su un percorso tecnico ed ormai collaudato, quindi spazio alla speciale Prello in Vallestrona e la Mottarone. In totale le prove di velocità che andranno a formare la classifica saranno di 88 chilometri. In paglio i punti per il campionato di zona 1, che ha un Montepremi molto più ricco rispetto al 2017 e di trofeo Pirelli.